Ciao Cinzia, grazie per questa disponibilità tua a presentarci l'Australian Cattledog che sono questi splendidi cani, così due esemplari sempre per la serie Che razza di cane hai? Oggi presentiamo Che razza di cane hai? Ora mi devi dire che razza di cane hai Australian Cattledog che sono due, diciamo è una razza che non è molto diffusa, almeno non si vede spesso e quindi mi piacerebbe che tu potessi condividere con noi, con chi ci ascolta la tua esperienza come utente, cosa significa vivere con un Cattledog con due in realtà, diciamo un attimo che è un cane da lavoro, una razza da lavoro lo chiamano i cani paratori Aspetta un attimo perché dobbiamo passarci questo, quindi quando parli tu come il microfono tienilo a questa vista Che ciuffetto Sono una delle educatrici che hanno seguito, li chiamano i cani paratori è sempre più vicino e sono da mucca Sono da mucca Un po' come gli Australian Da mucca, da mucca Che vanno praticamente a bovini A bovini A bovini E quindi lei mi diceva che loro sono molto obbedienti, effettivamente è vero Ma sono anche Io non c'entro niente Mi diceva che i cani paratori sono, devono essere anche molto indipendenti Questa cosa in loro si vede, cioè da una parte sono molto legate E dall'altro però hanno delle intuizioni, delle cose che è tipico loro Come mai hai scelto questa razza? Questo non lo so neanche io Come mai hai scelto questa razza? Questo non lo so neanche io, nel senso che non sapevo neanche l'esistenza Ho visto uno Perché hanno l'idea dei lupi Dei lupi Mi piacevano i cani con le orecchie dritte Mi sembrava che i cani da pastore fossero obbedienti e tranquilli Nella mia testa non erano predatori Invece in realtà i cani sono predatori Tutti predatori Una pazzia, non lo so, non lo conoscevo Dopo so molto di loro Perché dopo ho studiato tanto E mi sono interessata Ho guardato questo, ho guardato quello Ho visto dei video dell'Angela Stockeldale Che parlava appunto anche di loro Spesso scegliamo una razza per caso Non dovrebbe essere così Però in realtà c'è sempre un motivo Diciamo anche forse istintivo Che ci fa avvicinare ad una razza Te ne sei pentita È una razza che corrisponde Adatta al tuo stile di vita? Allora, pentita adesso no Perché devo dire che sono molto brave O perlomeno non sono perfette Però sono molto brave Io volevo un cane per andare in giro a camminare E devo dire che queste Da questo punto di vista sono perfette C'è la mia idea dei cane Quando avevo l'idea dei cane Era che io volevo un cane Perché volevo andare a camminare Un po' l'error è stato due Però adesso che le vedo anche adultine Devo dire che si fanno molta compagnia Litigano un po' Però si fanno anche molta compagnia Quindi in realtà è dura Qua qua Tutte e due Vieni Velocissima Un ottimo richiamo Sì Velocissima Brava Ma sei bravissima Ecco questo richiamo Secondo te Questo ottimo richiamo Dipende da cosa hai fatto tu Qualcosa che hai fatto tu Oppure secondo te È un tipo di razza che si presta A questo tipo di rapporto Allora Non lo so Io con loro ho fatto tanto Devo essere sincera Però Credo che siano loro Siano proprio loro come tipologia Si allontanano poco Vedi Loro non vanno tanto in giro Sono proprio anche molto diverse Quindi avere lei O avere lei Comunque avere due individui Due totalmente diversi La bellezza delle due Sorelle gemelle È che in realtà Hai una specie di banco Di osservazione Un po' privilegiata Da un certo punto di vista Perché vedi Le dinamiche Tra le due Le differenze Però È impegnativo Due È impegnativo Non vogliamo sapere Come ci sia arrivata Questo potrebbe essere un'altra pazzia Naturalmente Però effettivamente Avere due cani Soprattutto due sorelle Non solo di colore diverso Ma anche di Carattere diverso Ti permette di avere Un confronto continuo Per vedere come Questa razza Comunica Ne reagisce Con te Umana E come tra di loro Loro hanno un gioco Abbastanza È sempre gioco Questo lo diciamo Perché potrebbe spaventare Qualcuno che sente Magari l'abbaio Bisogna sempre distinguere L'abbaio Cioè Conflitto Oppure no Loro hanno questo gioco D'altronde dobbiamo immaginarci Che il loro lavoro È quello di stare Tra i bovini E morderli ai garretti Per cercare di contenerli Un po' come il border Fa con le pecore In maniera più soft Ma loro Lo fanno con i bovini Quindi avere a che fare Con i bovini Non è Difficile Quindi hanno questo rapporto Infatti si vede L'abbiamo visto oggi In trekking La bocca La bocca E hanno queste pinzatine Però sono dei cani Effettivamente eccezionali Avendone due Raccontaci qualcosa Di imbarazzante Oppure di tipico Che fa uno Fa l'altro Se hanno delle particolarità Che le differenziano Se hanno delle cose comiche O delle situazioni Di imbarazzo Che ti hanno fatto vivere Ma l'imbarazzo con loro È che A volte vanno in conflitto Quando sono al guinzaglio Ho visto oggi Quando cominciano ad andare Un po' iper Tenerne due al guinzaglio Che cominciano E rischiano Perché Che litigano sul saglio Questa È una cosa Che veramente Mi mette Stra Disagio E quando succede Non so mai Cosa Cosa possa succedere Quindi vado Veramente in ansia Ma è una dinamica Tra loro due Perché loro Non ce le hanno Con gli altri cani E poi Devo dire Vedi Hanno imparato Convivere con tutto Cani Gatti Galline Cavalli Mucche Pecore Quello che non vuoi Non glielo devi permettere Mai Che particolarità hanno Cioè hanno dei vizi Per esempio O delle abitudini Che magari ritrovi in una E non nell'altra Avendo questa possibilità Di confrontarle Per esempio Togliere il morso È stato difficile Da cucciole La pinzettina È stata dura Ma lei ce l'ha Molto di più Lei Per esempio Il pecore Agnelli Agnellini Lei ci sta alla larga O i cavalli Lei ci sta alla larga Lei Ci avrebbe il tentativo Di andare A A fare Un girettino Però Quando l'agnello La guarda E la carica Lei scappa Sì Sì Non mardano Sì Vabbè È insito nella loro indole Cioè loro usano la bocca Non è Non dobbiamo scambiarlo Per morso di aggressività È proprio un lavoro Cioè loro cosa fanno Tallonano Non ho tallonatori Tallonano Quindi hanno un atteggiamento Nei confronti Delle zampe posteriori Dei bovini Per cercare di condurli È chiaro che sono Dei cani da lavoro E quindi sono Dei cani rustici E dei cani Diciamo che Possono andare bene In una determinata condizione Ecco per esempio Le vedresti tu In una vita cittadina Con un appartamento Come può esserci Non lo so Un'altra razza Molto più diffusa Oppure no E che attività fai tu Di giorno Tu hai detto che sei una camminatrice A parte il fatto che sei qui Siamo qui Noi non potevamo Non cogliere l'occasione Per fare Una intervista Come l'abbiamo fatta Al Vulcano La facciamo anche qui In Lessinia Durante il dog camp Il dog cafe camp Qui in Veneto Però tu Che attività fai? Che stile di vita hai? Tanto da sposare Diciamo Da andare d'accordo Con loro Allora Io abito Così In un posto così Quindi tutto aperto Quindi la prima scommessa Era stata Che dovevano Convivere Con più famiglie Più cani Con tutta una serie di E quindi loro Da sempre Vivono in casa Quando io Non ci sono O anche quando ci sono Però Hanno dovuto imparare A stare nei dintorni E a convivere con gatti E tutto E quindi Questa Loro sono Tra virgolette Molto libere Soprattutto Adesso che sono diventate Grande D'estate c'è proprio La porta aperta Metti una cosa così E loro vanno E vengono Però Quando le tieni dentro E non le porti In giro E poi in giro Tutti i giorni Libera I giorni Di pioggia Loro Li gradiscono Stare in casa Il caldo Loro gradiscono Stare in casa Ma poi Devono Hanno bisogno Di star fuori Anche una mezz'oretta Al giorno Non è che Riportarli via Le ore Una Due Tre Dice ore Ma la mezz'oretta Di corsa Quando tu non ci sei Che attività fanno Per rimanere Diciamo così Il loro passatempo Diciamo Mordicchiano Mordicchiano Io gli butto Cartoni Cartoncini Legnetti Plastiche Bottiglie Del latte E trovo Un po' Di Ma capita anche Che facciano Danni in casa Quando erano cuccele Sì Ho dovuto Metterli a tutto Le mie ciabatte Le mie scarpe Il kennel Sappiamo che ti ha aiutato In questo Però Mi ha aiutato Quando erano piccole Ma poi Non potevo tenere Sette o otto ore I cani dentro Nel kennel E quindi Quando Sono diventate grandi Che non potevo più stare Finché non cuccele Nel kennel Ma dormivano tanto Ma poi Non era possibile Tenerle nel kennel Pure E quindi Loro sono abituate Alla casa No Loro Mobili Non mi hanno mai rovinati E scarpe Però Io sono disordinata Allora Mi hanno detto Che con i cani Non bisogna essere disordinati Non conviene essere disordinati Però una cosa È distinguere Quello che ogni cane Farebbe da cucciolo Cioè L'usare la bocca Eccetera Eccetera E quindi il kennel A questo punto Ti siete aiutati Una cosa è Ricordarci Che cane Che razza di cane abbiamo Quindi loro usano la bocca Per lavoro Quindi non possiamo andare A contrastare questa cosa Allora Il fatto di fornirli Sempre del materiale O delle occasioni Per usarle Probabilmente Aiuta Hanno cesta Dove metto dentro Le cose E se le pescano Sì Giochi Quelli classici Ma non li usano Loro Prendono i bastoncini Li disintegrano Ossa Non ne metto Perché pure Che vadano in conflitto Cibo Quindi roba da E disintegrano A volte Lei di più Lei meno Questo poi è un problema Di carattere Naturalmente C'è sempre Una Diciamo Una prevalenza Del soggetto Diciamo Quindi In teoria Se tu pensi a lei Lei distrugge Pochissimo Se pensi a lei Lei non gioca Per esempio Se tu hai su lanci Non gioca Lei invece gioca E lei ha più bisogno Di mordicchiare Di correre Lei fa la guardia La vedetta Lei si metterà Fa la vedetta Lombarda Lei invece Qua così Lei si sdraia A casa Si prende la sua cuccia E sta ore Comunque Sono dei cani Che riescono Anche a stare In casa Se fornisci Diciamo La giusta attività Devi portarli fuori Ma non Le guinzaglio Per la città Perché secondo me Andrebbero più In stress Si Ma basta andare Su un argine Di un fiume Poi non scappano Quindi Si L'abbiamo visti oggi Durante questo trekking Che è stato abbastanza Sono state molto indipendenti Non hanno trascurato Gli altri cani Quindi sono Un ottimo richiamo E anche se Possa fare impressione Può fare impressione Questo Diciamo Contrasto Gioco tra di loro Bisogna sempre Se sai distinguere Queste cose E quello Bisogna farlo tutti Naturalmente che hanno cani Soprattutto due Si capisce bene Come è la loro indole La loro attitudine A questo uso Della bocca Che porta ad interagire Così Quindi Senza Non sono cani Assolutamente pericolosi Ma poi lo fanno Tra di loro E basta Non vanno Sugli altri cani Nel senso che è una Una dinamica Tra loro due Gli piace questa cosa E tra di loro La fanno Probabilmente c'è anche Una comunicazione simile Tra di loro Che riconoscono Rispetto agli altri cani Oggi l'abbiamo visto E che naturalmente Li porta ad interagire Così Infatti era abbastanza interessante Un'ultima domanda Che consiglio daresti A chi è interessato A questa razza Di studiare tanto prima Cioè Se io tornassi indietro Fare così Andrei a Vedermi video Prima Di cosa sono Loro Piuttosto Che dopo Perché ci sono Anche proprio di video Non prendere un Cuttle dog Se Non hai requisiti E ce ne sono tanti Non prendere un Cuttle dog Se Se non fai questo Non prendere un Cuttle dog Eppure che ci sono Tantissimi video In inglese Che proprio dicono Di non prenderli Se non hai Se non hai Una serie Di Requisiti Per cui Vogliare che non Sono semplici Studiare prima Dovrebbe essere Sempre Diciamo un po' Per tutto Capire un po' Che lavoro Fa il tuo cane E quindi capire Se io posso Dare una Diciamo Vita compatibile Con la loro Che se no Diventa poi Uno stress Va bene Io ti ringrazio Per questo tempo Dedicato E speriamo di aiutare Qualcuno Che prenda Voglia prendere Questa razza Non molto diffusa Ma bellissima Dovria Interessantissima Oggi l'ho conosciuta Per la prima volta Oltre a aver fatto L'avevo conosciuto online Ma in presenza È un'altra cosa Naturalmente Effettivamente Sono molto Simpatiche Quasi quasi Mi verrebbe Tirargli ne via Uno e portarmi Da casa Ma ti lascio andare Bene Grazie Ci vediamo alla prossima Grazie Cinzi